Allora, il programma di oggi farò l'imitazione di Silvio Berlusconi per mezz'ora e mi farete sapere cosa ne pensate, più ci sarà ancora di viola più andrò avanti Allora, buonasera a tutti in questa nuova live, grazie mille, chi è? Grazie Young Sandrix Pericento, mi consenta di dire che ti devo veramente ringraziare, veramente un brother, cazzo Allora, possiamo iniziare questa nuova live e possiamo dire, ragazzi allora Mettiamo subito le cose in chiaro, io non sono mica un santo, possiamo dirlo con estrema certezza Non sono un santo, grazie mille Uca, grazie mille per il Prime, veramente c'ho i milioni in banca ma comunque faccio live su Twitch, veramente sono molto contento di questo Allora, il programma di oggi è incredibile, cribio veramente qualcosa di mai visto Mi fumo questa sigaretta anche se ho 80 anni, ho un piede nella bara, ma comunque me la voglio fumare Allora, abbiamo un po' di ospiti ragazzi, mi consenta di dire che sono ospiti anche di un certo calibro stavolta Non come al solito, i soliti quattro coglioni che invito sempre Adesso, mettiamo le cose in chiaro, non possiamo metterci su questo punto di vista Grazie Mr. Dinkles, grazie Trust, grazie mille Trust Allora, ragazzi, avremo un ospite molto speciale oggi che non è mai venuto in live da me Che è il maestro Gischianto, che saluto, vi mando un grosso saluto Alle 22.30 lo faremo approcciare con qualche donzella, ovviamente maggiorenne, speriamo E poi avremo anche un piccolo format nuovo insieme a Jody, Rubino, Natalia e un sacco di altri ospiti molto interessanti E vedremo un po' come giostrarsi, insomma Siete contenti ragazzi? Potrebbe essere qualcosa di molto incredibile, eh Cribio? Siamo contenti ragazzi o non siamo contenti? Cristo Dio!